Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, siamo entrati finalmente nel vivo di FIFA 22, abbiamo avuto modo di giocarci in questi primi giorni, oggi è ufficialmente disponibile la versione Ultimate per tutti in maniera illimitata, tuttavia abbiamo visto durante la versione di prova che il gameplay è un qualcosa un po' di difficile, di molto diverso rispetto al passato, di molto risolvibile. Ne parleremo poi in un video che uscirà fino a settimana di tutti quelli che secondo me sono gli aspetti più problematici e critici che al momento rendono FIFA 22 un qualcosa che assomiglia più a una beta che a un gioco finale, ma vi ripeto, lo vedremo più avanti. In questi giorni in tantissimi mi avete chiesto, Riberoski ma le impostazioni del controller, le impostazioni quali dobbiamo usare, quali non dobbiamo usare, eccoci qui dunque con quelle che sono le migliori impostazioni controller per FIFA 22 e in particolare anche un cenno a quelle che sono le impostazioni competitive che magari qualcuno si era perso per la strada durante l'estate tra le varie news. Quindi senza perdere ulteriore tempo direi di passare immediatamente sulla schermata per farci un bel briefing sulle impostazioni del controller. Eccoci qui dunque, come potete vedere la prima cosa che salta all'attenzione del giocatore una volta che si ritrova sul menu delle impostazioni del controller è la spunta, configurazione competitiva? Sì, configurazione competitiva? No. Come ben sapete o se non sapete quest'anno è stata introdotta questa funzionalità, che cosa va a fare? Praticamente va a settare determinati settaggi del pad in maniera universale per tutti in alcune modalità che vengono riconosciute come competitive, per cui facciamo riferimento in questo caso ai draft, alle rivals e alle weekend league, quindi le tre comunque modalità principe per eccellenza online di FIFA Ultimate Team. Quali sono queste impostazioni che vengono settate in maniera universale e soprattutto su che parametro? Allora, come potete vedere, spuntandosi tutte quelle che sono le impostazioni bloccate spariscono da quella che è la disponibilità di andarle a modificare. La prima è quella del dribbling agile contestuale, ossia quella che io l'anno scorso avevo detto di disattivare, che andrà settata su no. Quindi se vogliamo andare a utilizzare il dribbling agile contestuale dovremo andare a schiacciare manualmente il tasto del tiro a giro. Tuttavia, se avete visto, quest'anno sembrano essere un po' spariti i micromovimenti con la levetta e sembra quasi che comunque sia sempre un dribbling agile contestuale attivo. Quindi in realtà, a mio modesto modo di vedere, hanno messo no, però hanno in qualche modo implementato la meccanosità del dribbling agile contestuale all'interno del gioco a prescindere e non è una cosa che a me personalmente sta facendo impazzire. I rinvii automatici sono settati su di no, questo cosa vuol dire? Quindi che la palla verrà spazzata in fase difensiva solo qualora vado effettivamente a schiacciare il comando apposito, come detto. Passaggio elegante automatico è settato su no, anche in questo caso, quindi se vogliamo fare un colpo di tacco dobbiamo fare i passaggi schiacciando l'L2, stessa cosa per un cross elegante, eccetera, eccetera. Tiri automatici anch'essi settati su no, quindi su una palla vagante il vostro attaccante non si lancerà in maniera automatica per buttarla indietro con tap-in, ma dovrete voi invece schiacciare il tasto del tiro. I colpi di testa non sono assistiti, questo che cosa vuol dire? Che appunto le conclusioni di testa non sono aiutate. Ciò vuol dire che dovranno essere effettuate manalmente, si tratta di una meccanica applicata a quelle che sono le partite competitive e richiede una maggiore precisione e abilità. Questo significa che in particolare per quanto riguarda la direzione è fondamentale appunto applicarla in maniera corretta, altrimenti il calcio d'angolo sarà l'effetto del vostro colpo di testa invece di quello della rete. Quindi mi raccomando a quella che è la direzione dei colpi di testa quando li andate ad effettuare. L'affronta manuale, questa è una delle grandi differenze rispetto al passato perché fino ad ora si poteva scegliere tra manuale e assistito, personalmente sempre giocato in assistito, invece oggi siamo obbligati a giocare in manuale. Più difficile da fare? Sì, ci si deve sicuramente abituare perché per chi viene da tanti anni di manuale, di assistito, sicuramente non è proprio la cosa più immediata. Vedete che magari all'inizio scivolate un po' troppo, con l'L2 andate a vuoto, però fa parte del processo quindi non vi preoccupate, piano piano diventerà meccanico così come lo era in precedenza. Aiuto passaggi filtranti è settato su semi, che in realtà se vi ricordate è un'impostazione che io già vi feci mettere perché vengono dei filtranti molto molto più precisi, quindi se avete eseguito il mio consiglio dell'anno scorso siete avvantaggiati su questo. La difesa tattica ovviamente è un qualcosa che già negli anni passati online non si poteva toccare. Questo per quanto riguarda le impostazioni competitive. Adesso inizia quella che è la parte relativa alle impostazioni del controller che invece è possibile andare a modificare FIFA Trainer, quindi quelli che sono appunto i vari comandi che si possono premere durante la partita. Ovviamente metteremo nascondi perché dà solo fastidio. La finalizzazione a tempo fa riferimento al Timed Finishing, ovvero una conclusione che se premendo due volte il tasto del tiro con un certo tempismo ci darà un certo boost sia di precisione che di potenza sulle nostre conclusioni. Se vi ricordate su FIFA 19 era qualcosa di veramente stra-OP, quest'anno io ve la consiglio perché il Timed Finishing come avete visto i portieri essendo molto forti dentro l'area perché poi da lontano ne combinano, un modo molto importante per battle è quello proprio del Timed Finishing sia sui tiri di potenza che sui tiri a giro e in particolare anche sui tiri di potenza e tiri a giro da fuori aria che come avete visto sono molto molto buoni ma poi tutti questi argomenti sicuramente li approfondiremo qualora arriviamo a video dove scegliamo quelli che sono i migliori modi per segnare eccetera eccetera. Indicatore cambio prossimo giocatore non fa altro che visualizzare un indicatore sulla testa del giocatore che riceve lo switch quindi il cambio quando schiacciamo l'L1 e io lo trovo fondamentale per scegliere se schiacciare l'L1 o l'analogico per switchare quindi in questo caso per me io lascio sì ma chi è abituato può anche tranquillamente mettere no. Queste poi sono alcune molto personali altre magari sono più dei consigli che vi posso dare voi potete cogliere aiuto intercettazione passaggi sì in un gioco dove già è difficile intercettare è bene che ci venga data una mano cambio automatico io metto su palle alte vaganti si può mettere anche su solo su palle vaganti solo su palle alte oppure automatico ovvero che andrà switchare il gioco per voi cosa che onestamente non vi consiglio. Io opto per questo ogni tanto vado sul manuale ma comunque nel tempo mi sono accorto che palle alte vaganti assolutamente il migliore. Aiuto movimento cambio automatico in questo caso io sto utilizzando Elevato se vi ricordate l'aiuto movimento cambio automatico che cosa fa nel momento in cui switchate il giocatore quello che stavate controllando in precedenza continuerà a fare dei passettini quindi come se andasse un po' a pressare verso il giocatore avversario. Questo con Elevato con nessuno ovviamente non lo farà con Limitato invece questa cosa sarà molto 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 più limitata io in questo momento sto utilizzando Limitato perché il gioco mi sembra un po' lento e impastato quindi preferisco cercare di andare a pressare senza che la palla mi superi perché altrimenti è difficile recuperare. Aiuto rinvio direzionale o classico questo praticamente che cosa fa? Sul rinvio del portiere andando a mettere direzionale la direzione del rinvio dipenderà da quella in partita sul controller quindi siamo noi che scegliamo la direzione del rinvio con classico invece la direzione e la potenza del rinvio sono completamente assistiti e io onestamente ve lo sconsiglio onde evitare che succedano cose strane quando rinviate il pallone tipo palla che finisce al primo giocatore disponibile e vi segnano quindi non va bene. Aggancio al giocatore utilizzo sì quindi serve per controllare un giocatore specifico premendo LR ovvero il player lock la funzionalità dell'anno scorso che anche quest'anno mi sembra abbastanza buona. Cambio icona ovvero quello che hanno inserito quest'anno andando a schiacciare R3 di fatti andrete a evidenziare quelle che sono i giocatori e quei tasti andare a premere per andare a prendere quel suddetto giocatore. Una meccanica che ho trovato abbastanza utile soprattutto al limite dell'aria ma che va masterata perché bisogna essere rapidissimi nel capire subito qual è il tasto da premere per prendere quel giocatore preciso. Anche su questo poi arriverà un tutorial molto più specifico. Cambio con la levetta destra ovviamente in base al giocatore perché se mettete in base alla palla prendete degli switch senza senso perché metti caso che l'avversario ti fa un passaggio e tu volete prendere un altro switch e andate totalmente al bar. Nessuno penso gioca con switch in base alla palla. Se qualcuno utilizza in base al pallone vi prego fatevi vivi nei commenti. Aiuto passaggi raso terra anche in questo caso assistito quindi abbiamo i passaggi che vengono indirizzati con la giusta potenza e direzione. Aiuto tiro anche in questo caso assistito in maniera tale che il tiro viene sempre indirizzato verso la porta e non rischiamo di buttarlo rimessa laterale. Aiuto cross ancora una volta assistito il cross viene indirizzato verso un tuo compagno con giusta potenza e direzione a meno di mirare molto lontano dall'aria. Manuale ovviamente è tutto quanto manuale sia direzione che potenza se mi invece ti dà un piccolo aiuto. Mi raccomando una premessa amanti del gioco manuale sono perfettamente d'accordo con voi che FIFA in manuale è un'altra cosa però fino a quando ci sarà la distinzione tra per giocare in assistito e manuale è normale che giocheremo tutti in assistito. Io non metto in dubbio che manuale sia tutta un'altra esperienza però un conto è giocare in manuale tutti e un conto è avere uno che giochi in manuale in assistito. Sono vantaggi troppo grandi quindi è normale che li utilizziamo. Non facciamo partire guerre sul manuale e l'assistito che già vi conosco. Poi aiuto passaggio alto anche in questo caso assistito aiuto parate assistito scatto analogico io onestamente non ci faccio troppa attenzione però quest'anno conviene mettere no. Perché c'è con il doppio tasto della corsa l'Explosive Sprint. Quindi se lasciate lo scatto analogico su sì rischiate che non ve lo prende. Explosive Sprint tutorial a breve anche qui sul canale. Blocca ricevitore passaggio invece utilizzo tardi. Il ricevitore del passaggio viene selezionato il più tardi possibile poco prima che tarda il pallone. Questo che cosa succede? Succede che praticamente quando voi andate a fare il passaggio il ricevitore non si va subito a selezionare. Quindi nel momento in cui si viene a frapporre anche un avversario tra voi e il destinatario della palla voi avete anche il tempo per magari provare a cambiare la direzione del passaggio ed evitare che il pallone venga intercettato. Quindi ragazzi questo per quanto riguarda le impostazioni controller. Un bel recapino veloce di quelle che sono le nuove e quelle dell'anno scorso nonché quelle competitive che sono state introdotte e hanno limitato la nostra personalizzazione. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Se vi sta piacendo FIFA 22 e vi ripeto a me non proprio tantissimo al momento serve una patch bella grande a mio modesto parere. Nei commenti trovate tutti i link di riferimento in particolare piattaforma viola dove siamo live tutti i giorni. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata ragazzi in saluto da Riberoski. Ciao ciao.